Con la zona gialla è possibile spostarsi non solo tra i comuni ma anche tra le regioni, purché dello stesso colore. La prima verifica dei comportamenti si avrà nei prossimi giorni, che daranno una panoramica sul rispetto delle regole nell'ultimo weekend. Isola del Gran Sasso, insieme alla Valle Siciliana, si prepara ad accogliere turisti e pellegrini che si recheranno anche al Santuario di San Gabriele dell'Aldolorata in vista della stagione estiva. Dovremmo valutare poi dalla prossima settimana, 8 e 9 maggio, perché l'8 maggio ci sarà il giubileo dei giovani. Come sapete quest'anno San Gabriele è coinvolto nel giubileo annuale, è stata aperta la Porta Santa il 27 febbraio e quindi sicuramente i pellegrini arriveranno numerosi. Si spera anche questo, ma sempre sotto le regole del vietare, del limitare al massimo l'assembramento e riuscire così a contenere ancora una pandemia che è tra di noi. Fino a luglio speriamo di mantenere bene, speriamo che i vaccini vadano come vadano e questo sarà davvero, ripeto, i test per capire quanta gente arriverà a San Gabriele, soprattutto nel nostro territorio. L'anno scorso appena si liberò i nostri territori furono invasi da turisti che avevano voglia di stare nella natura e naturalmente il territorio si presta. Abbiamo tante zone in cui ci sono aree picnic, c'è il Parco del Gran Sasso, c'è San Gabriele, vicino a noi c'è Castelli, c'è Tossicia, ci sono gli altri comuni, c'è Santa Maria di Ronzano, quindi da Castelli possiamo andare a Fontevedica, Campo Imperatore, quindi è un luogo che poi riporta tantissima gente che ha voglia di uscire, di prendere aria, di stare all'aperto. Dobbiamo riuscire ad avere gli strumenti per accoglierli sempre in sicurezza.